...gieracchia in evoluzione invece alle dipendenze di un grande ex attaccante di Vincenzo Muntella diviso dalla polverisma classico di Carlos Vaca... ...malco, bianca, vengono la polvergine, la polvergine, la polvergine e la polvergine... ...e la polvergine, la polvergine, la polvergine, la polvergine, la polvergine, la polvergine... ...la polvergine, la polvergine, la polvergine... ...questa, la ripa è dove gli attaccanti avverso neri col titolare Vaca, l'Aside, la polvergine... Un uomo di fantasia, scuso, gravatoria, improducibile naturalmente anche per Mazzalegri, con gradazione di titolarità che non d'ordine non sopige, il tutto condito dalle illuminazioni di Vila. A chi può produrre ora il secondo del campionato, quello che la Juventus prenda sei reti come la prova di Spalletti, di fronte al sesto e il sette i cuori del Milan, gli stessi della Palauca. Un uomo di fantasia, scuso, gravatoria, improducibile naturalmente anche per Mazzalegri, con la Juventus e il sette i cuori del Milan, gli stessi della Palauca. Buongiorno a tutti. Ma questa sera la temperatura sante scende perché c'è escursione termina a mezzogiorno e le 19. Direi che è tutto da voi. Grazie a tutti, grazie.